Cosa c'è di speciale nel caffè Kimbo? C'è il sole e la natura che fan crescere il caffè C'è l'uomo e l'esperienza per raccogliere il caffè La gioia e l'armonia in un raccolto di caffè Una sapienza antica che fa grande il tuo caffè Sì, caffè Kimbo, una miscela esclusiva tostata al punto giusto per esaltare tutto il profumo e il sapore del miglior caffè Ecco cosa c'è dentro il tuo caffè Caffè Kimbo, un caffè speciale